Bentornati su MyFootballGersey! Vi mostro oggi la seconda maglia della squadra che da ormai dieci anni sta dominando il campionato tedesco, ovviamente il Bayern Monaco. Questa in edizione Player! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Per ordinare la maglia o avere altre informazioni andate a vedere qua sotto in descrizione dove trovate tutti i riferimenti. Ora vi lascio alla parte finale. Prima però iscrivetevi al canale. Questo è l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione Player. Che vedete! Grazie a tutti.